Si è svolta a Castellabate la fiaccolata della pace in onore delle donne che partite da piazza Matarazzo ha raggiunto piazza Lucia dove proprio sotto la casa comunale è stata resa ancora più unica e toccante da emozioni, sensazioni e momenti musicali. Ad organizzare l'evento sono state le donne dell'amministrazione comunale di Castellabate, Nicoletta, Dalila e Marianna insieme a Claudia e Simona. Blu e giallo i colori delle bandiere portate proprio da donne e bambine ucraine che vivono ormai da anni a Castellabate e le fiaccolate ardenti di speranza impugnate dai partecipanti. Ringrazio tutte le donne dell'amministrazione che hanno organizzato questa manifestazione così toccante e importante che anima in noi la speranza, ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo. Oggi doveva essere festeggiata soltanto la donna come fulcro principale della nostra società, invece siamo qui a dire basta alle atrocità della guerra in Ucraina. Esprimo tutta la nostra solidarietà nei confronti di questo popolo e vogliamo essere concretamente d'aiuto per tutti coloro che sfuggono dalla guerra. La donna deve imparare a sentirsi libera nelle azioni e scelte perché nessun altro è in grado di decidere per lei. Deve essere padrona della sua vita e deve imparare a dare valore e priorità a se stessa tutti i giorni, afferma l'assessore Marianna Carbutti. La storia delle donne è una storia che racconta di lotte e sfide per la propria affermazione personale e professionale. Ricordando queste donne coraggio parlare oggi di violenza, discriminazione di genere e di femminicidio è davvero un fallimento per l'umanità intera. A tutto il popolo ucraino esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà dichiara il consigliere Dalila Russo. Al grido, al pianto, al dolore di ogni donna vittima di questa guerra vogliamo che giunga il nostro messaggio. Forza siamo con voi. La guerra non ha un volto di donna ma nemmeno un volto di uomo. La guerra è solo atroce, follia e contro questa vogliamo urlare basta, ha dichiarato infine l'assessore Nicoletta Guariglia.